Ciao a tutti, sono qui con Francesco Bernabei, regista e documentarista, presente qui al Festival del Film di Roma due anni fa con il documentario L'elefante occupa spazio, che parlava della figura del proiezionista. Ecco, dopo due anni da questa proiezione, com'è cambiata la figura di questo mestiere? Diciamo che oggi il proiezionista non si occupa più della pellicola, quindi non monta più il film, non ha un rapporto diretto con la pellicola perché moltissimi cinema all'estero e in Italia da poco hanno aderito al cinema digitale, quindi non c'è il procedimento che si usa una volta. Però è comunque una presenza importante perché se no qualcuno deve far partire comunque la macchina. Diciamo che forse ha perso un po' di poesia, prima c'era il rapporto con la pellicola, quindi con l'odore, arrivavano queste pizze che venivano montate e smontate e quindi aveva un fascino e un sapore diverso. Quest'anno sei qui come spettatore, c'è qualcosa che ti ha colpito, che hai avuto modo di vedere? No, ancora no perché sono arrivato da poco e quindi adesso guarderò un po' il programma, ma ci sono sempre delle cose interessanti, quindi spero di sì, spero. Tu arrivi dal mondo della pittura, ecco, come è stato il passaggio dall'arte al cinema? Io sono passato al cinema perché venivo dalla pittura figurativa, ho dipinto molti anni e mi piaceva il rapporto con le persone. Poi quando ho capito che la pittura figurativa, che il linguaggio della pittura figurativa non era più il linguaggio dei nostri tempi, ho cominciato a lavorare con dei materiali e lì ho sentito invece il bisogno, la mancanza delle persone. Invece la macchina da presa ti permette di raccontare l'umanità. Ecco, questo è quello che mi interessa, raccontare le persone, le contraddizioni, l'umanità, l'esperienza, la vita. E a proposito di umanità, ecco, so che tu hai affrontato temi molto diversi, io conosco la tua passione per le fiabe, ma hai fatto anche un documentario su un re del cinema hard, qual è il filo conduttore? Ma il filo conduttore è quello che ti dicevo, a me interessa non tanto quello che la persona fa, che è poi sempre un mezzo, una scusa per raccontarla. Ho fatto questo documentario su Lasse Brown, che è stato uno dei più grossi registi del cinema hard e la cosa che mi aveva colpito di questa persona era la grande umanità, la grande passione. E lui all'epoca, negli anni 60, aveva messo nei suoi film hard i baci. Quindi questo momento, io gli ho chiesto di Colasse, ma com'è che hai messo il bacio? E lui mi ha raccontato, dice, io da ragazzino rimasi colpito dal bacio di Via Colvento, quando si abbracciano, me l'ha mimato, questo avvolgersi, questi due corpi, e sono rimasto talmente colpito che per me il bacio e ho voluto rimetterlo. E questa è una cosa fantastica, va oltre il fatto di fare il cinema hard. E quindi quello che ti dicevo, quello che mi interessa è sempre l'umanità e la persona in sé. Quindi ho raccontato Lasse Brown, ho raccontato i proiezionisti, ho raccontato degli artisti. Insomma, la persona, quando vedo qualcuno che mi interessa, poi cerco di scoprire cosa fa. Mi interessa molto questo discorso sulle fiabe, so che è una tua grande passione, però mi viene da chiedermi, esistono ancora le fiabe e soprattutto chi crede alle fiabe oggi? Ma guarda, io credo che le fiabe abbiano una grande importanza nella formazione di ognuno di noi. Lo sono state così importanti nella mia infanzia e sono un po' il ponte che ci permette di agganciarci alle storie, quindi ai libri e al cinema, poi. Creano i futuri lettori, i futuri appassionati di cinema. Io penso che la risposta... Guarda, io ho fatto adesso un documentario che si chiama La Luna che vorrei, che è un documentario sul quartiere Pigneto, Prenestino, Casilino, che uscirà a breve, il primo dicembre, il Cinema Aquila, e ho intervistato gli artisti e i bambini. Io ho chiesto a un bambino di 5-6 anni cosa manca, secondo te, in questo quartiere? E lui, senza pensarci un attimo, non mi ha detto un campo di calcio, un cinema, una palestra, un ristorante, un campo giochi, no. Mi ha detto, manca gente più felice. Questo, secondo me, ci dà il peso dei valori, di dove sta andando il nostro paese, il paese dei nostri figli, il paese del futuro. Quindi credo che la visione, la poesia, sta sempre negli occhi di chi guarda. Il vero viaggio, l'hanno detto, non è viaggiare e spostarsi con l'aereo o con la macchina. Il vero viaggio è fare un viaggio, cambiare, vedere le cose da un altro punto di vista. Ecco il tuo prossimo lavoro, che potremo vedere il primo dicembre, la luna che vorrei al Cinema Aquila. Io invito tutti ad andarlo a vedere. Quanto c'è di fiaba? E soprattutto perché hai scelto questa zona di Roma? Ho scelto questa zona perché la vita mi ha catapultato in quel quartiere, dopo aver vissuto per 20 anni al Borgopio, in centro, perché la madre mia figlia, io ho una bambina di 6 anni, si chiama Valentina, vive nella zona e quindi voglio portarla a scuola, voglio essere un padre presente. e ho cominciato a girare nel quartiere, a conoscerlo. Ho fatto un laboratorio per bambini di pittura e il municipio mi ha chiesto di fare un documentario che raccontasse lo spazio fisico e le persone. E quindi ho colto l'occasione per conoscerlo, per farne esperienze e cercare di trasmetterlo agli altri. e mi sono trovato davanti un'enorme possibilità. Un quartiere che è pienissimo di energie, di cose possibili, di cose belle che sono in divenire però. E quindi sta un po' a noi che lo viviamo realizzarle o meno. Io ero curiosa sul tema del caratterista, io so che hai fatto un lavoro molto interessante, noi abbiamo intervistato Luis Molteni che è uno dei caratteristi del nostro cinema più amati e più cercati. Quando gli ho chiesto che cos'è un caratterista lui mi ha chiesto, non l'ho ancora capito bene anche io. Ecco, tu che hai lavorato proprio su questo tema, che cos'è il caratterista? Ma io quello che posso dire è che anch'io in sé non amo la definizione come sicuramente non ama Molteni. E giustamente, perché poi il caratterista viene usato spesso in maniera riduttiva. Il caratterista è un attore come gli altri, spesso è un grandissimo attore, perché si trova a fare tantissime cose, tantissima esperienza. e il nostro cinema, soprattutto il cinema diciamo degli anni 50, 60, 70, che era un cinema corale, anche più ricco economicamente, deve tantissimo anche al cinema americano, insomma, non solo al cinema italiano, al cinema di tutti i modi. Quindi, quello che posso dire è che il caratterista, l'attore che riesce a fare i caratteri, perché questo è un attore senz'altro bravissimo e che dovremmo tornare a... Cioè, una volta anche l'attore che entrava in scena e diceva che il pranzo è servito era un attore. In quel momento faceva qualcosa, faceva il suo mestiere. Non era un fruttivendolo oppure un assistente alle luci che passava e diceva che mi serve una persona che passa sporta che portami il campari soda. Ecco, insomma, il cinema lo devono fare, secondo me, gli attori, come lo devono fare i direttori della fotografia, i registi. Sarebbe come far cucinare, no, una pietanza a me. Certo, io la posso anche cucinare bene, però, insomma, non mi sento di fare il cuoco e invito qualche amico, anche che non sia molto robusto, insomma, e che non si possa... non mi si possa vendicare, insomma. Allora, io ringrazio moltissimo Francesco Barnabei e speriamo di ritrovarti qui al Festival del Film di Roma prestissimo. Intanto noi ti andiamo a vedere il primo dicembre. Al Cinema Aquila, La luna che vorrei. Non mancheremo, grazie.